Ciao a tutti da Svideo, vi volevo dire a che punto del completamento dell'album delle carte di StumbleGuys, a che punto del completamento ero insomma. Vi ricordo che le carte, come dice anche qua, sono 162, di cui ci sono 24 leggendarie e ci sono 10 speciali. Allora, mi faccio vedere le pagine, ecco. E praticamente me ne mancano, ho visto una quarantina, perché? Ah no, scusate, ero andato indietro, perdonatemi. Fa un po' specchio, mettiamoci così. No, si vede bene, no, si vede male. Comunque me ne mancano circa 40. Ecco qua, qua vedete che ci sono diverse leggendarie. Queste sono le speciali. Insomma, ecco, questo era praticamente l'aggiornamento per farvi vedere insomma a che punto ero con l'album, insomma. Tutto qua, tutto qua, tutto qua. Per farvi vedere un po'... E ve lo vedete, mancano circa una quarantina di carte e poi dopo vediamo pian piano. Ok. Qua di speciali ne ho 1, 2, 3, 4, 5. Ma no, di speciali ne ho 6, perché sono state impaginate che una non è nella stessa pagina. Sì, potremmo mettere nella stessa pagina tutte le speciali. Beh, vabbè, vabbè. Ciao da Svideo!